Portavano da Palermo 500 grammi di hashish, tre corrieri della droga sono stati fermati e due arrestati dai poliziotti delle volanti. Durante un controllo all'ex gil, ovvero il posteggio degli autobus, i tre un gambiano di 30 anni, un tunisino di 17 e un nigeriano di 42. Il minorenne alla vista delle forze dell'ordine ha provato a scappare, sul posto sono arrivati anche i rinforzi e altre tre pattuglie delle volanti. Addosso al trentenne, un gabbiano, sono stati trovati quattro panetti nascosti negli slip e avvolti dal celofan. Addosso al minorenne, un panetto sempre nascosto negli slip. Le perquisizioni invece del nigeriano è risultata negativa. I due sono stati arrestati e il maggiorenne si sobbò in prima, condotto ai domiciliari, poiché è residente a Caltanissette, il minore collocato nel centro di prima accoglienza per minori inviaturati. I due sono stati arrestati perché colti in fragranza per spaccio di sostanze stupefacenti.